Questa è una giornata molto importante dove si parla appunto di consumo di suolo e dove si mette in relazione l'importanza di questa matrice che è una matrice non rinnovabile e quindi che deve essere gestita con grandissima oculatezza anche per quanto riguarda il contributo che può essere dato dal punto di vista alimentare. Siamo in un contesto europeo interessantissimo perché proprio uno dei goal del Green Deal riguarda il cosiddetto farm to fork quindi la possibilità di ridurre le pressioni ambientali anche da parte di un mondo importantissimo che dà tanta ricchezza come quello agricolo dove appunto il suolo è un elemento fondamentale e decisivo. Ci sono numerosi lavori che sono stati fatti nel nostro paese e non ultimo da un istituto importante come Ispra che continuano però a dirci che il consumo di suolo inteso non tanto come cementificazione ma come sottrazione al suolo delle sue funzioni ecologiche che sono fondamentali continua a essere in questo paese molto molto forte. Ci sono ancora delle dinamiche che non si sono rallentate nemmeno in una situazione critica come quella della pandemia del 2020-2021. siamo in attesa ancora della promulgazione di una legge sul consumo di suolo legge che ormai ha visto passare quasi tre legislature ma che non ha visto ancora la luce. A livello europeo oggi ci sono direttive interessanti che possono aiutarci ad affrontare questo tema in maniera adeguata che significa appunto da un lato non consumare e non togliere le funzioni ecologiche al suolo dall'altro cercare anche di capire quanto un suolo gestito in maniera sostenibile può contribuire a un'agricoltura di grande qualità e quindi a migliorare la filiera che poi porta un cibo più sano e concorre appunto al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo. è una sfida importante, è una sfida che anche con un organismo come noi, come l'autorità deve affrontare, soprattutto un'autorità come quella del distretto del Po dove oltre il 55% dell'attività agricole esplicano le loro funzioni rispetto a tutto il paese per cui questo suolo che la natura ci ha consegnato molto ricco come quello della pianura padana deve essere mantenuto, valorizzato, preservato e da qui la necessità anche di invertire alcune politiche a cui noi potremmo contribuire attraverso l'attività di pianificazione che dobbiamo svolgere dal punto di vista istituzionale.